Oh Cioè Stavo registrato Madonna Non vloggate mentre correte No, guardate, c'ho il sangue qua Questo video inizia Alla da Games Week tipo sto andando E ho trovato questa gente, sono in quattro Non ce n'è uno con un telefono integro Guarda, uno Due, tre e lui è il vincitore Perché ormai... Bella, è stato un piacere Ciao, 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 comunque si Dopo quattro anni sono ancora qui a Games Week Ricordo il mio primo Games Week 2014 Ci feci anche un video sul canale È il quinto Games Week Vengo qui a farmi i cavoli miei, non mi ha invitato nessuno Sarà divertente lo stesso Sì, ci siamo, vediamo se riesco a trovare qualche Youtuber amico mio Salve, questo ve lo devo raccontare No, lui lo conosco tipo da... Quando aveva aperto il canale tipo E giocavamo a... Unturned Buonasera, salve Buongiorno, ciao, comunque è carino Cioè, dopo cinque anni è sempre la stessa cosa Io voglio questa cosa nella mia nuova casa E abbiamo recuperato anche il sommo Dadovax Guarda che manager Quanto sei hype, visto? Heila Simone, cosa faccio stanotte? Russo Raga, Black Geek è cambiato Non è più quello di una volta Bene, Games Week praticamente è finito Ho incontrato un sacco di gente Ho incontrato un sacco di voi Sono felicissimo E non ho registrato assolutamente niente Però, buh, sarà che vengo da cinque anni È sempre un po' la stessa cosa È per quello che non mi vedrete prossimamente ad altre fiere o cose del genere Qua sono venuto un po' più per tradizione Non mi va di farlo youtuber che va alle fiere per incontrare i fan Non farsi solo una foto così Non nello stand con le transsene Tutte queste cose simpatiche Adesso vedo se trovo altra gente e poi vi abbandono Che poi questo quando tutti smontano tutto Secondo me è il momento più bello delle fiere Perché vedi un po' il backstage di tutto Tra l'altro fa freddissimo Io sto aspettando Blink che mi deve venire a prendere qui, credo Buonasera Ottimo Ottimo Dove ci hai portati? A un'hamburgeria australiana Burger Wave Oh yeah Food Review Oh man Bomber per 10 Bomber Prendiamo questo qua The Wave Patatine Non le trovo I nostri classic steakhouse accompagnati da bacon Mamma mia Ragazzi qua, alta classe, altro che Games Week La cosa bella del Games Week Sono le Cine dove ti portano Ragazzi sta succedendo una cosa epica Me lo posso girare Allora Vi spiego Unsa Ci ha proposto di venire in questo posto Perché facevano un hamburger con il gorgonzola eccetera Io sono arrivato Uno dei panini Uno dei panini, ok Io però sono arrivato con la voglia di mangiarmi Il panino con il gorgonzola, il bacon eccetera E non hanno il gorgonzola perché ce l'hanno solo a periodi Se volete io vado a comprarlo Una cosa più stupida di così Non ne ho idea Stiamo andando veramente a comprarlo Al Carrefour Sì Andiamo al Carrefour Compriamo il gorgonzola E ci fanno l'hamburger con il gorgonzola Occhio 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 Il gorgonzola che usano loro è lo stesso Ma il supermercato fu così bello Penso che sia qui da qualche parte Gorgonzola Non mi piace la faccia Gorgonzola dop dolce Non ci sto dentro Questa è la ferita di prima E questo invece è il gomito Vi giuro che ho rischiato seriamente tanto Perché c'era questa catenella E non l'ho completamente vista 5,21 euro Gorgonzola dop qua Cioè alta classe Se devo rischiare la vita Almeno prendiamo Missione Quasi compiuta Tra l'altro bellissimo Perché a Jenswick Tutti i miei iscritti Avevano i telefoni rotti Ti giuro C'era un ragazzo È venuto a chiedere una foto Facciamo il selfie Non si vedeva nulla Nulla Aveva tutto il vetro La pellicola di vetro rotta sopra No ma io pensavo di essere io Quello che rompeva le cose Invece sono contento Che voi siete con me In questa casa Ok prima Correvo giù di lì Facendo il vlog Lui mi fa Occhio 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 E non ho visto quella Sono inciampato E lì ho impattato Contro il terreno Tra l'altro La cover dell'iPhone Si è anche segnata Quindi Ha toccato la terra Sì Sì si guarda Eccoci di nuovo Bellissimo Non era buono Apple Pay Per la prima volta Ovviamente con hype Link in descrizione Hamburger buonissimo Adesso devo tornare A Ro Prendere un treno Che perderò Di sicuro E tra tipo 20 minuti Siamo a 25 minuti Di macchina Ma niente È impossibile Niente Sono arrivato Allo corso Ho scavalcato Una staccionata E ho perso il treno Volendo ne avrei un altro Tra un'ora Ma siccome è tardi C'è gente un po' all'osca Vado con gli altri Non ho capito Dove devono andare Poi al limite Prendo l'altro treno Ma da Garibaldi Questa cosa Non verrà mai pubblicata Allora la situazione Si è evoluta In modo che Mi sono imbucato Alla festa di Twitch Che non ho mai fatto Una streaming su Twitch Adesso sono con questi Loschi individui Bella boys Bella Siamo all'arco della pace Che stiamo cercando Di aspettare Un taxi Un Uber Qualcosa Non troveremo mai nessuno Siamo a casa Non so quanto senso Avrà questo video Ma è stata una giornata Particolarmente divertente E niente Buonanotte Ciao Ci si vede in giro Notte Ciao Ci si vede Prossimamente T'inus definitivamente